Si è conclusa con buone presenze di pubblico, grazie ai due domeniche di bel tempo e al vasto programma dell'evento, Cartocetto DOP il Festival, la 42esima mostra a mercato dell'olio e dell'oliva. Frantoi, degustazioni, osterie, mercatini dei produttori, animazioni di strada, laboratori e l'indiscusso teatro del trionfo hanno portato nel piccolo borgo cartocetano tantissimi turisti e cittadini dalle città limitrofe. Partecipato e apprezzato nella serata di sabato 10 novembre anche il Gran Galà del Gusto, la serata spettacolo dedicata all'oro verde delle Marche, curata dalle proloco locali e dall'associazione Rosciano Insieme. Un connubio perfetto di buon cibo, intrattenimento e buona musica con i live dell'orchestra Casa Dei Romagna mia, Romagna il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore E della band Il Diavolo e l'Acqua Santa Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo Ma la notte la festa è finita e viva la vita, la Giandese Sveste comincia Direi un'edizione straordinaria quest'anno sia per le due domeniche, quella scorsa con cui si è aperto cartocetto dopo il festival, la 42esima edizione della mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva anche oggi devo dire tantissima gente, i due concerti a teatro sia di domenica scorsa che di questa domenica rispettivamente con Sergio Camariere e Walter Ricci Fabrizio Bosso completamente sold out La stessa cosa per ieri sera il Gran Galà del Gusto con oltre 600 persone, una grandissima serata di gusto per l'appunto, proprio perché tutte le proloco ricadenti nell'areale della DOP Cartoceto sono state coinvolte con i loro prodotti tipici d'eccellenza dei rispettivi territori e anche di spettacolo con il Diavolo Acqua Santa, la Grand Orchestra Casa Dei e poi devo dire un enorme successo così come dimostrato anche dai produttori qua in piazza Garibaldi dove c'è un po' il cuore pulsante della mostra Mercato con tutti i produttori olivicoli e devo dire tanta 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 gente per i vicoli, le piazzette di Cartoceto, del borgo di Cartoceto che si è animato e si è vestito davvero a festa rispetto alle tante iniziative che sono state proposte per queste due domeniche di Cartoceto dopo il festival